È un po' cambiata la situazione dei sospesi? Sì, per fortuna siamo arrivati ad un numero credo quasi definitivo perché poi il 31 dicembre la scadenza del DL44 quindi al momento su Arezzo ci sono 29 sospesi e 8 revoche. Queste revoche chiaramente sono colleghi che hanno fatto la vaccinazione quindi la seconda vaccinazione presentando il certificato di vaccinazione oppure hanno presentato un certificato di esonero per gravi problemi di salute e sono reintegrati al lavoro. Ecco, mi verrebbe da chiederle come li avete convinti posto che magari non li avrà convinti lei personalmente ma insomma come si sono convinti? Sicuramente erano tante di queste revoche situazioni particolari legate molto anche a situazioni personali importanti e familiari. Chiaramente non posso dire altro per motivi di privacy però chi ha fatto oggi il vaccino si è convinto in alcuni casi in altri casi lo ha fatto a seguito di aver atteso diciamo così delle situazioni che si sarebbero sbloccate a breve in altri casi ancora sono revocati per gravi motivi di salute quindi revocate per un atto, un certificato di sospensione dovuto al fatto che non possono fare il vaccino per motivi di salute. Questi colleghi rientreranno nei loro setting che quindi inizieranno a respirare un pochino di più? Sicuramente non potranno essere integrati nei setting che venivano diciamo così a loro assegnato prima della pandemia ma verranno comunque gestiti in qualche setting un pochino più periferico in modo da evitare comunque loro la possibilità poi di essere contagiati qualora fossero stati esonerati dal covid insomma vaccino covid. In caso invece di vaccinazione di seconda dose verranno reintegrati a tutti gli effetti dando un po' di respiro ai colleghi che purtroppo sono rimasti senza per tutto questo periodo. Bisogna ricordare che 29 colleghi ancora sono sospesi pertanto ci sono carenze di personale e queste carenze purtroppo vengono colmate con infermieri che hanno dato tanto nel periodo covid e devono dare tanto anche perché hanno di personale in meno causare sospensioni.